Il guanto di sfida del Movimento Padova 2020 è lanciato. Lunedì alle 21 il Municipio ospiterà la prima assemblea della nuova area civica da cui dovrebbe uscire un candidato sindaco. L'obiettivo è quello di una larga coalizione composta da forze rappresentative della città. Un'idea non dissimile da quella portata avanti dal Partito Democratico, ma la loro sostengono i 20-20, resta una logica di partito. È diverso perché il progetto di una forza politica è il progetto di una forza politica, non è una coalizione civica. Quello che vogliamo fare noi è quella di chiedere a tutti di fare un passo indietro per far fare a Padova un passo avanti. Che vuol dire? La coalizione che nascerà lunedì non avrà simboli dei partiti perché noi chiediamo di rinunciare a questo, non solo ai simboli dei partiti, ma di rinunciare a questo modo di fare politica. Se il PD è davvero intenzionato a ripartire dal basso e dai cittadini, sfidano i 20-20 e abbia il coraggio di rinunciare al suo simbolo e lasciare che le decisioni vengano davvero prese dai padovani e non da una segreteria politica. Quanto ai 5 Stelle, Beatrice Dalla Barba alza le spalle. In questi anni sostiene sono stati i migliori alleati di Bitonci. Loro non sono coalizione civica, sono grillini. E in più, voglio dire, aprioristicamente rifiutano le alleanze, anche se, voglio dire, alcuni di loro qui a Padova l'alleanza con Bitonci certe volte l'hanno anche fatta. L'analisi dell'ex sindaco Zanonato sulla lontananza crescente del PD dai quartieri e dalle periferie mi sembra condivisibile, spiega l'esponente dei 20-20. Non voglio però dire nulla sulle loro questioni interne. Io credo che ci sia delle lacerazioni all'interno del PD che non sono un problema nostro, sono un problema loro.